Studio 7 TV e Sport Piccelo Game presentano l'intervista di Pietro Ospite della puntata Hanno usato la violenza sulla mia pelle Ho provato a dirlo nelle notti ma non sempre Mi chiedevano perché gridavo mentre cantavo mentre sognavo Benvenuto alla nuova puntata abbiamo ospite un granito ritorno L'Aragosta e a questo punto riprenderei dove ci siamo lasciati A questo punto cosa è cambiato in L'Aragosta da quando ci siamo lasciati oggi Perché ci sono tanti avvenimenti e tante cose poi Sì, allora sì c'è stata l'uscita del mio primo singolo appunto Gian Maria Funk Ne avevamo già parlato appunto un annetto fa E dopodiché No veramente un paio d'anni perché 2022 era Poi dopo è uscito un altro singolo Il mio secondo singolo che si intitola E mi respiri forte Che è una canzone ironica che parla di patriarcato Però in chiave ironica E adesso a dicembre scorso Ho pubblicato il mio terzo singolo che si chiama Sulla mia pelle E parla della violenza di genere A questo punto parliamo appunto di questo ultimo lavoro Sulla mia pelle Quando nasce questo lavoro Come si sviluppa E poi a ottenere questo risultato Che è un buon risultato Sì, allora Sulla mia pelle Nasce in realtà L'ho scritta nel 2018 Parla di una mia esperienza Che ho subito Violenza di genere da piccola Praticamente E poi ha subito varie modifiche E con il mio produttore L'abbiamo un po' Insomma messa a punto E abbiamo deciso di pubblicarla A fine appunto dell'anno scorso E abbiamo voluto dare Perché inizialmente era una canzone Molto più intima Diciamo, ecco E poi abbiamo voluto dare Questa chiave Anche quell'arrangiamento Che si può sentire dall'arrangiamento Di forza Perché deve essere un inno di lotta E quindi La figura della donna Non deve essere quella Diciamo Vittimistica Ma appunto Di Di lotta Ecco E invece Una cobertina Del singolo Che è particolare Dove C'è questa Nudità Di una donna Ma Non è Elegante Come si dice Perfetta Ma mostra I suoi limiti Ma mostra la realtà De la donna Sì La copertina È un'opera Di una mia amica E un'artista Femminista Che lei Ha pensato Proprio per la mia canzone Quindi Lei aveva già Ovviamente La mia canzone Essendo una mia amica E mentre Pensava A questa A questa canzone Ha dipinto Questa opera Che in realtà È un insieme Di più tele E io ho scelto Quella E Si chiama Spezzate L'opera completa E lei Dipinge spesso Queste Parti Di corpi Femminili Per Di donne Come dice lei Spezzate Cioè Pezzi Proprio Di 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 Donne Abusate E E E Quello Che si può Vedere È proprio Anche la La resilienza E la forza Di Di Donne Comunque sia Che hanno Subito Violenza Eventi live Ci sono stati Quale è stato Adesso Visto che Adesso È acquisito La capacità Di gestione Il palco Adesso ancora C'è quell'emozione Iniziale Che Ti faceva dire In fondo Ti dava Quell'emozione E tuttora C'è quell'emozione Di Quell'energia Che sale Dal palco E Tu La ritrasmetti Con tutta La tua Forza La tua Energia E allora L'emozione Ovviamente C'è sempre E Poi Soprattutto Con questa Canzone Che io Sento Tantissimo Rispetto Anche ad altre Canzoni Che comunque Scrivo sempre Io Però Questa È più Intima E più Intensa Quindi Con questa Canzone Qui Proprio Mi emoziono Sempre Molto E poi È bello Proprio Quando porto Questa Questa Canzone Ma anche Le altre Perché più o meno Parlo sempre Degli stessi Temi Insomma E E portarli Negli ambienti Adatti No Quindi ho Partecipato A diversi Festival In cui si Parlava di Violenza Di genere E È bello Proprio Che Queste Canzoni Vengono Proprio Capite No Dal Dal mio Pubblico Quindi Rispetto a Un paio D'anni Fa Quando Ancora Anche se Scrivevo Di questi Temi Non ero Ancora Stata Invitata A Partecipare A questi Festival E Quindi Magari Facevo Serate Più Classiche Diciamo Locali Non Centrati Su questo Tema Adesso Molta più Soddisfazione In live E Invece Qual è stata La prima Sensazione Che provato Mognugui E hai fatto Ascoltare Questo brano Cercando di Capire Non tanto Con le parole Ma Vedere Gli sguardi Di chi Ti Ascoltava Ascoltava Quel brano Sei riuscita A capire Se loro Anche Nell'emozione Quale sensazione Hai provato Vedere Queste reazioni Che forse Non è anche Ti aspettavi Di vedere Allora Io credo Che la prima Volta Che ho fatto Ascoltare Questo pezzo In un ambiente Appunto Che poteva Recepire Molto bene Insomma E È stata Una manifestazione Credo Proprio Una manifestazione Femminista E Ho avuto Una reazione Del pubblico Che proprio Non avevo mai avuto Quindi proprio La gente Che urlava Quindi Sono rimasta Proprio Tipo Oddio Ma che sta succedendo Ero contentissima Sì sì Ho avuto Proprio Una fortissima Emozione Veramente A questo punto Oltre a promuovere Chiaramente Questo singolo Progetti futuri Immediati Ci sono? Stiamo Finendo Di girare Il video Che uscirà I primi Verso febbraio Pensavamo Ecco E Quindi ecco A breve Uscirà questo video E E poi Stiamo lavorando Su altri pezzi E Anche In collaborazione Con altri artisti Quindi Abbiamo un po' Di cose In cantiere Però ancora Non ho date Cose Niente Visto che Devi recitare Questo video Qual è la prima Sensazione Che hai provato Non reciti Non Non recito Ho deciso Di Far recitare Due attrici E un attore Per cui Io non ci sarò In questo videoclip Consigli Per Riprese Oppure Consigli Di qualche Scene Hai dato Oppure Ti affidi Completamente Al regista Io Lavoro Con Le Trote Production Che sono Tre ragazze E Con loro C'è Una Uno scambio Continuo Insomma E poi Anche loro Capiscono Molto bene Questi temi Ovviamente Ho spiegato Loro Quello Che voglio Venga fuori E hanno Avuto Un'idea Pazzesca Secondo me Quindi Va Va Benissimo Quello Che faranno Perfetto Allora Ti ringraziamo Per essere Stato Ospite A questo punto Ricordiamo Due cose Fondamentali Allora Gli indirizzi Dove poterti Ascoltare E raggiungerti Per poterti Interagire Con te Quindi E conoscere Tutto il mondo Che ancora Qualcuno Non conosce E I saluti Finali D'accordo Allora Mi potete trovare Su Tutti i social Quindi Instagram Facebook Da poco TikTok Ma non lo so Usare ancora Scrivendo Lara Gosta O Lara Gosta Music E poi Su Spotify Tutti i digital store E YouTube E sempre Scrivendo Lara Gosta Tutto attaccato Mi raccomando E niente Io ti ringrazio Tantissimo Per avermi Richiamata E Ospitata Di nuovo Qui da te E Niente Un saluto A tutti Grazie E niente Ci vediamo Per il prossimo Singolo E noi Saremo qui Ad ascoltarli Grazie Pronti Per essere Per ricevere Un altro Messaggio Interessante Dalle tue Note Grazie mille Studio 7 TV E Sport Picciano Game Hanno presentato L'intervista Di Pietro Ospite Della puntata Hanno usato La violenza Sulla mia pelle Ho provato a dirlo Nelle notti Ma non sempre Mi chiedevano Perché gridavo Mentre cantavo Mentre sognavo Le rupo